è un gesto automatico, non metto in agitazione, è automatico ormai, prova, tac questa si, la mia è fatta apposta per non far partire, se no è morbida, se no il cifone riesci a accenderla me la usa, invece la mia non riesci a accenderla non me la dopra, togli la marcia, togli la marcia che è meglio, togli la marcia, guarda che è lenta e dopo va forte, usa la prima secondo me, cacchio di marcia è, cacchio di marcia è, cacchio di marcia sei prima, per fare la zona qua prima, è più, è più reattiva rispetto a questa, va dietro di più è il dinosauro, è il dinosauro, è il dinosauro, è il tuo non gira, non gira come la tua eh, gira meno questa eh, devi giocarci un casino con il gioco, si ma, mi sembra, mi sembra, mi stancati più secondo me, no ma non è per quello, non è il nuovo, è proprio, si ma è proprio il modo di usarla che è diverso, non c'è non c'è, è un pochetto, ha capito perché tante volte io quando devo scelto sto attento, perché alle nostre tocca eh, e se tocca ti si incuzza, youhoo, si ha già imparato basta già a posto, a posto, via, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene bene va bene, va bene